Voglio la fragola, oppure il buon cioccolato e poi tanta, tanta panna. La panna del Pacioccone. Voglio tutta la bontà artigianale del Pacioccone, perché la Gelateria Il Pacioccone è il mio angolo freddo di vera tentazione, con i suoi gelati dai mille gusti. Me li gusto tutti nel suo meraviglioso giardinetto all'aperto. Gelateria Il Pacioccone, misfizia e delizia di golosità, con prodotti puramente artigianali. Fresco piacere dei sensi. Venite con me alla Gelateria Il Pacioccone, in Viale Madonnuzza, a Melito Portosalvo. L'unico gelo che scalda di piacere.